Matteo, senti, penso che possiamo dirlo, è il tuo più bello che hai fatto, ma tanto bello quanto importante, perché hai chiuso la partita definitivamente, evitando di ulteriori sofferenze, tra l'altro una giornata molto intensa, anche a livello... Abbastanza, sì, verissimo e soprattutto sono contento perché ci ha permesso di vivere gli ultimi minuti di partita molto più tranquilli e rilassati, perché il caldo oggi non ci avrà niente aiutato né a noi né a loro, però sono contentissimo con la prestazione perché è andato il pareggio con la legge attesa, abbiamo risposto con due gravi prestazioni e quindi ci aspetta l'ultima partita dove dobbiamo dare il 100%. Senti, ti abbiamo visto sempre presente, sempre una prestazione di gamba, però le qualità si conoscono, come ti trovi a dialogare con i tuoi compagni, penso a Dio Dato, Anzano, Urso, insomma sono tutti giocatori di qualità... Diciamo che è molto più semplice giocare, diciamo così, perché magari che quando fai una giocata di prima veloce li trovi sempre, sai che sono sempre nel posto giusto, sono altruisti, ci troviamo bene, sia fuori che dentro il campo, anche con Dippo, Rezzi, con Albi, e quindi viene tutto molto più semplice.